oggi vi parlo di una linea di make up che trovate nella bioprofumeria aquilana a cui sono tantissimo affezionata la linea di cui voglio parlare e zao allora il rossetto la matita che porto oggi vi faccio vedere alla matita e la 561 il rossetto è il 412 e il gloss è il 038 e questa linea è molto molto particolare è il packaging fatto di bambù in più queste meravigliose matite sono pensati un po perché questa è una linea che rispetta l'ambiente e 100 per cento naturale e vegan sono matite multifunzionali che spettacolo ottime per gli occhi ottime per la bocca ottime per le sopracciglia vi stufate di usarla per gli occhi la potete usare per le vostre labbra non vi sembra fantastico parliamo anche di tutti gli altri cosmetici ad esempio il gloss fide gloss volete cambiare colore volete riacquistare lo stesso colore niente paura andate anche a risparmiare perché portate qui da me il gloss e io vi do la sua ricarica ma non vi sembra tutto così meraviglioso